Ciao a tutti, sono Federica Colonna e mi occupo di ricerca e sviluppo in 4Plus Nutrition. Oggi vi presentiamo l'ultimissimo arrivato in casa 4Plus Nutrition, Influact. Influact è un integratore alimentare in capsule che abbiamo sviluppato per alleviare i sintomi tipici delle affezioni alle alte vie respiratorie, come quelli del raffreddore o dell'influenza. Influact contiene 3 estratti vegetali che consentono di favorire la funzionalità delle prime vie aeree e al contempo di supportare le difese immunitarie, l'estratto di sambuco, l'estratto di andrographis e l'estratto di geranio africano. Questi estratti consentono di alleviare sintomi come la tosse, il mal di gola, il naso che cola, il naso chiuso e la produzione di muco e in sinergia con la vitamina C e lo zinco supportano le nostre difese immunitarie. Influact può essere utilizzato alla comparsa dei primi sintomi assumendo una capsula al mattino e una alla sera per un periodo di 5-10 giorni. Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito 4PlusNutrition.com